Ora la questione riguarda lo smaltimento dei rifiuti all'inceneritore a Ugozzolo, ma quelli provenienti da fuori provincia. A tenere calda la questione è l'assessore all'ambiente del comune, Gabriele Folli. Oggi Irene, scrive, è stata diffidata dalla provincia di Parma in un procedimento a cui si è affiancato anche il comune per aver incenerito rifiuti provenienti dalle province di Reggio Emilia e Modena. A settembre ci sarà il pronunciamento del Tar sulla questione, ma io credo, dice ancora Folli, che prima degli aspetti legali ci sia il dovere morale di riconoscere da parte dei vertici della multiutility che è stato commesso un errore che mina la credibilità dell'azienda. I parmigiani hanno raggiunto livelli di raccolta differenziata altissimi ed ora non si può pensare di cambiare le carte in tavola solo perché l'impianto ha carenza di rifiuti. La riflessione dell'assessore parte da una puntata di Parma Europa del 2010. L'allora presidente di Enia Andrea Lodi si era impegnato pubblicamente ad assicurare i cittadini sul fatto che all'impianto sarebbero stati conferiti solo rifiuti nell'ambito provinciale, come peraltro recita, aggiunge Folli, una delle prescrizioni autorizzative tuttora vigenti e l'assessore posta quel video su Facebook. Se il comune e le amministrazioni sono così virtuose da voler raggiungere queste alte percentuali di raccolta differenziata, si parla del 70, del 75, quasi non rimane più nulla. Eppure abbiamo un forno che dovrà bruciare ogni anno 130 mila tonnellate di rifiuti, quando il rifiuto urbano è solo di 65 mila tonnellate. Non rimarrà più niente da bruciare. Quindi vuol dire che Enia semplicemente si sta mettendo sul mercato per raccogliere i rifiuti industriali e speciali e per fare soldi. Grazie. Chiudiamo con l'allodi. Che cosa risponde? Innanzitutto è assolutamente scontato che non arriveranno rifiuti da altre parti. Come lo stesso Folli ha detto ora, le cose sono cambiate, differenziata a quota 70% e impianto di Ugozzolo a scartamento ridotto. Chiarezza dovrebbe essere fatta una volta che sarà adottato il piano rifiuti regionale, un ITER tuttora bloccato dopo le dimissioni di Vasco Errani. Grazie.